Attenzione tifosi nerazzurri! Preparatevi per una notizia che vi farà entusiasmare. La nostra amata Dea è tornata sul mercato dei trasferimenti con tutta la forza, e questa volta abbiamo gli occhi puntati su un talento che promette di fare la differenza in campo. Un giocatore versatile e abile, proveniente da un grande club europeo, potrebbe essere in arrivo a Bergamo per rafforzare le nostre file e elevare ancora di più il livello della squadra. Vuoi sapere chi è? Resta sintonizzato, perché lo scopriremo insieme. Prima di tuffarci nei dettagli, che ne dici di unirti alla nostra tifoseria nerazzura? Se ami l'Atalanta tanto quanto noi, iscriviti ora per ricevere tutte le novità in anteprima. E ovviamente, non dimenticare di lasciare il tuo like, clicca sul pulsante e unisciti alla nostra tifoseria online. Ti starai chiedendo, perché Borna Sosa? La risposta è semplice. Il giocatore di 24 anni è una vera risorsa in campo, con la sua abilità nei cross precisi e una solida performance difensiva. È versatile e può giocare sia come terzino sinistro che come ala, adattandosi perfettamente allo stile di gioco dinamico del nostro amato tecnico Gasperini. L'Atalanta aveva già dimostrato interesse per Sosa in passato, ma le trattative non erano avanzate. Ora, con l'Ajax disposto a lasciarlo partire, le possibilità di vederlo indossare la maglia nerazzura sono aumentate significativamente. È un'opportunità d'oro che la nostra dirigenza non vuole perdere. Per chi non conoscesse la carriera di Borna Sosa, ha iniziato nelle giovanili della Dinamo Zagabria, dove si è rapidamente messo in luce e ha fatto il suo debutto professionistico. Il trasferimento al VfB Stoccard in Bundesliga è stato un passo importante nella sua carriera, permettendogli di sviluppare ulteriormente le sue abilità e ottenere visibilità internazionale. Questa crescita ha attirato l'attenzione dell'Ajax, dove ha continuato a brillare. Ora, con la possibilità di unirsi alla nostra squadra, Sosa rappresenta una giunta strategica. Con la partenza di giocatori come Olme e la disponibilità di Bacher sul mercato, è chiaro che abbiamo bisogno di un terzino sinistro di qualità per mantenere la competitività della squadra. Sosa porta esperienza internazionale e le caratteristiche ideali per il calcio offensivo di Gasperini. Immaginate, tifosi, Sosa che corre lungo le fasce, fa cross precisi e difende con grinta. È esattamente il tipo di giocatore che può trasformare la nostra linea difensiva e dare quell'impulso extra di cui abbiamo bisogno per continuare a brillare sia in serie a che nelle competizioni europee. E non finisce qui. L'arrivo di Sosa potrebbe essere solo l'inizio di una serie di rinforzi strategici che l'Atalanta sta pianificando. La nostra dirigenza sta lavorando instancabilmente per garantire che abbiamo una rosa forte ed equilibrata per la prossima stagione. L'acquisto di Sosa sarebbe un chiaro segnale che siamo pronti a competere al massimo livello e cercare grandi successi. Mentre aspettiamo ulteriori dettagli su questa emozionante trattativa, tifiamo insieme affinché tutto vada per il meglio e Borna Sosa possa unirsi a noi a Bergamo. Tenete d'occhio i nostri prossimi aggiornamenti, perché promettiamo di portarvi tutte le novità in anteprima. E voi, cosa ne pensate del possibile acquisto di Borna Sosa? Lasciate la vostra opinione e le aspettative nei commenti qui sotto. Condividete questa notizia con altri tifosi della DEA e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per altre informazioni esclusive e scoppiettanti sull'Atalanta e sul mondo del calcio. Alla prossima, e tifiamo insieme affinché l'Atalanta continui a fare storia sui campi. Forza Atalanta!